e buongiorno a tutti prima di tutto vi mostro le spazzole ecologiche di jungle culture è un set che ho comprato su amazon questa è una spazzola in fibra di cocco questa è un'altra spazzola zero rifiuti un'altra spazzola per le bottiglie praticamente la spazzola zero rifiuti che possiamo cambiare anche la testina questo invece è un panno in canapa in cotone biologico e questo set su amazon costato 18,99 poi ragazze ho comprato le spugne naturali di luffa che sono sei pezzi ho pagato 13,99 sono tutte le cose che questo invece un sacchettino da mettere un sapone ecco sono tutte le cose che ho comprato io non hai una collaborazione sono tutti i prodotti che piacciono a me poi ho acquistato anche queste mollette qua in acciaio che sarebbero per abiti per ganci per per chiudere i snack ecco a prendere i calzini tutto quello che vogliamo e queste mollette qua costano 10,99 euro le ho viste in tantissimi video e mi sono piaciute tantissimo queste qua favo anche nei guanti ragazze ho provato anche con la candeggina con con altri detersivi però le macchie non vanno via mi sa che li tengo così va bene favo stesso ragazze ormai è andata come è andata ciao Grazie a tutti. L'ho sostituito con quelli di plastica. Quelli di plastica invece li porto su un solaio e li uso tra penderia e abiti. Ecco ragazze, non li butto via, giustamente. Poi tra l'altro tiene anche molto meno spazio. Mi metto a lavare anche queste spugne qua, giusto per ammorbidirle un po', così riesco a lavorarle meglio. Alla fine questa qua è tipo una zucca seccata, ecco, alla fine. Che è una pianta che qua non c'è. Praticamente io ho pensato di tagliarlo adesso, di tagliare quel pezzo qua, perché sennò il cibo va sempre dentro. Così saremo molto più comode. Intanto le bagnate. Andiamo ancora un po'. Così si ammorbidiscono. Tra l'altro qua ci sono rimasti tutti i semi di zucca. Guardate. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.